Mi ha sempre riportata qui. Non sono mai riuscita a mancare. Ancora, a 30 anni, mi emoziono quando sta per iniziare la sfilata. Fa parte di me. Vi partecipavo già a pochi mesi di vita. Mio nonno ne ha costruiti molti e deve in qualche modo avermi trasmesso tutta quella passione e energia che investiva nella loro costruzione. Lungimirante fu quel gruppetto di persone che più di 40 anni fa si riunì in un piccolo comitato per realizzare la prima festa dei carri dell'Uva. Manifestazione che anno dopo anno si è evoluta ed è cambiata come lo è stato per tutto e tutti. Far festa attorno a quello che è il prodotto più importante del territorio, l'Uva e di conseguenza il vino e nel contempo creare un valore sociale che oggi ha più valenza di ieri. Con la costruzione dei carri allegorici, ogni anno io e i miei amici ci ritroviamo per lavorarci attorno, sicuri di ritrovarci lì, anche con i più lontani. Un gruppo di persone che lavora per il piacere di costruire qualcosa che semplicemente dà la possibilità di esprimere un'opera d'arte collettiva creando momenti di socialità che resteranno come patrimonio nella vita. Questi valori non possono essere perduti. Come dimenticare l'anno 1996? Non riuscivamo a trovare il luogo e l'aiuto idoneo per costruire il carro. Eravamo pochi, impossibile, ogni cosa sembrava perdere il proprio senso. Ma poi arrivò lui, mosso dalla sua grande passione, e così riuscimmo a partecipare. Vero, è una faticaccia, per noi è un rito, una festa, un divertimento, una scorta di energie ed emozioni per affrontare tutto il resto. Finita la festa, si continua a festeggiare, danzare, cantare fino a mattina per i più coraggiosi. Tornando a casa, con i piedi consumati dal saltarello, si pensano già nuove idee per l'anno successivo.